Ma no, dai! Ci sono avversari duri e quelli che giocano Spork. Si attaccano alla maglia senza farsi vedere. Ma i campioni non si fermano. Il risultato finale? Spork a casa e con lui i batteri. Il pulito trionfa con la migliore in campo. Io pod, e tu? Tenere fuori dalla portata dei bambini.